Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò dove trovare le monete blu per la settimana 4 della stagione 4 di Fortnite capitolo 2. Le monete blu saranno disponibili dalle 15, quindi a breve. Vi mostro in anteprima la loro posizione. Quindi, come sapete, le monete blu vanno distrutti determinati oggetti nella mappa per recuperarle. La prima moneta si trova all'interno del faro, quindi qui, nella parte più a nord della mappa, qui. Non potete sbagliarvi anche perché c'è un solo faro, oramai da sempre, quindi non potete sbagliarvi. Il primo, quindi, oggetto da distruggere si trova all'interno di questo faro. Vi rimostro la posizione qui in alto. Entrate nel faro. Quindi atterriamo. Aprite la porta e l'oggetto è questo. Adesso la moneta ancora non c'è, ma comparirà dalle 15. Andiamo alla seconda. La seconda moneta blu si trova all'autorità, quindi al centro della mappa, qui. Ecco qua, qui. Dove c'è l'eliporto, tipo l'elicottero, dovete atterrare qui, però. Atterrate qua. Rompete questo per scendere giù. E la moneta è qui dentro, quindi rompete questo oggetto e recuperate la seconda moneta. Vediamo la terza. La terza e ultima moneta blu della settimana si trova qui, all'interno di questa casetta, vicino al lago, dove c'è corso commercio o moli molesti. Sicuramente sarete atterrati tante volte qui o ci sarete arrivati in un secondo momento. In questo laghetto c'è questa casa, non quella. C'è questa casa qua. All'interno di questa casa qua, gialla, troverete la moneta. Adesso vi mostro ovviamente dove. Dovete entrare qui, girate e rompete queste canoe. E recupererete l'ultima moneta blu della settimana.